Massimo Riccio presenta la vera vita di uno youtuber Un vero youtuber ha sempre una scaletta di idee pronte per nuovi video Tutto molto semplice Errore 2 Un vero youtuber ha a disposizione una location completamente dedicata ai video Per la redazione della relazione L'argomento è la mani Ah chiusi Al prossimo video Ciao Uff finito Vediamo se c'è qualcosa qua da mangiare Un vero youtuber ha familiarità con la camera e non sbaglia mai E vale la pena di raccontarla Ciao sono Davide e oggi parleremo della potenza Ciao sono Davide e oggi parleremo della potenza del super cadifragilisti espiradiloso Sì Ma non stavo registrando Un vero youtuber collabora facilmente con qualsiasi altro youtuber Ciao ragazzi allora se mi mandate le vostre clip chiudiamo questa collaborazione e io riesco a pubblicare tutto Fatemi sapere presto grazie Ah c'è nessuno? Un vero youtuber adora la fase di editing Fase sia estremamente veloce che priva di errori Un vero youtuber dopo la pubblicazione non è assolutamente interessato a come andrà il suo video Ma ho visto che ha pubblicato il video come sta andando? Ma sai in realtà i numeri e le views non è che mi interessano così tanto Comunque se ho un po' sporcato riuscireste a prendermi un tovagliolo? Sì è un vero No No Che ne ho fatto un video tempo fa che vi lascio qua sopra E arrivano i cani Ma lo stavo registrando La scadenza per mandare i video a Simo è questa sera Comunque Al prossimo video Ciao Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E seguitemi Scende Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Ciao Grazie a tutti.